Una volta questo era proprio un gran bel paese E non riesco a capire quello che gli è successo Beh, è che tutti hanno paura, ecco cosa è successo No, non possiamo neanche andare in uno di quegli albergetti da due soldi Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarvi o qualcosa Hanno paura? Sì, ma non hanno paura di voi Hanno paura di quello che voi rappresentate Ma guarda Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di togliarsi i capelli Ma no, no, no Quello che voi rappresentate per loro È la libertà E che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo? Ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono all'età E vada non dire mai a nessuno che non è libero Perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare Per dimostrarti che lo è Ah certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura La paura però non li fa scappare No? Ma li rende pericolosi Questa justement hai Allora Che Che Allora Allora Inoltre Allora 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 Allora